Oggi siamo con Guido e Miriam, che sono i protagonisti di un'esperienza molto particolare. Sono dei musicisti e sono degli innovatori innanzitutto. Io vi chiedo di iniziare così con una vostra presentazione. Raccontateci chi siete, il vostro percorso artistico che avete compiuto per arrivare fino a qui. Siete nati come duo e poi avete deciso a un certo punto di creare qualcosa di differente. Ma partiamo dall'inizio. Praticamente l'MG Inc. Duo, che è la sigla M. Miriam G. Guido Inc., è la sigla che solitamente viene utilizzata per l'azienda Incorporated negli Stati Uniti. Appunto dà già un'idea un po' di quello che vogliamo fare in musica. Intanto i nostri due strumenti sono molto particolari perché la viola da gamma è uno strumento del periodo barocco. L'arpa, specialmente quella che suona Miriam, è un'arpa pedali, uno strumento classico da orchestra, che è un'arpa che si è standardizzata come costruzione non tanto tempo fa, è abbastanza recente. Per cui sono due strumenti che non si sono mai incrociati temporalmente. Pertanto già qui c'è un'innovazione proprio nel fatto che è un ensemble già unico di per sé nel suo genere. Pertanto abbiamo avuto un'attività adesso, inizialmente siamo partiti proprio nel proporre un nuovo repertorio, non essendoci appunto un repertorio già scritto. E quindi abbiamo iniziato con concerti in Italia, poi abbiamo vinto il Terran Crossover Competition a San Pietroburgo, unico ensemble italiano ad aver vinto questo premio prestigioso e anche unico nel suo genere, proprio perché promuove l'innovazione su strumenti classici, quindi l'innovazione di arrangiamenti e quant'altro. E poi appunto da gennaio scorso abbiamo iniziato a creare la MG Inc Orchestra, che è appunto il nostro ultimo progetto, che è stato il primo ensemble in Italia ad essere finanziato tramite il crowdfunding ed è gestito esclusivamente da noi due per valorizzare i giovani talenti italiani dai 18 ai 30 anni. L'idea del crowdfunding com'è nata? C'è stato un momento in cui avete deciso di costituire questa cosa e immagino abbiate cercato finanziamenti, abbiate cercato finanziatori, se non finanziamenti pubblici, finanziamenti privati, quindi qualcuno che sostenesse un'idea. A un certo punto avete virato su qualcosa di diverso, che in Italia era ancora praticamente inutilizzato e sconosciuto, come penso che lo sia per molte persone anche oggi. Quindi magari, Maria, raccontaci cos'è il crowdfunding e che cosa avete? Inizialmente, allora spieghiamo subito, inizialmente noi abbiamo pensato a questo progetto e abbiamo capito subito che comunque è un progetto che ha dei costi, come i progetti orchestrali, come qualsiasi, diciamo, progetto nascente, quindi questi costi dovevano necessariamente essere coperti. Allora abbiamo cercato di affidarci a donatori privati, abbiamo fatto anche un giro, un po' dei negozi, presentando tutta una cartella molto ben fatta, che spiegava il progetto, cosa volevamo fare, quando i ragazzi di quest'orchestra si sarebbero riuniti per la prima volta e dove avrebbero suonato. Era già tutto prestabilito, quindi nonostante noi fossimo molto sicuri del progetto, molto determinati, non abbiamo trovato riscontro perché abbiamo subito dovuto scontrarci appunto con una realtà che non si può neanche tanto biasimare, cioè nel senso che in un momento così di crisi è molto difficile che un privato, comunque un'azienda, investa su un progetto così nuovo, su un progetto nascente che non ha delle garanzie. Allora abbiamo aperto una pagina di crowdfunding. Il crowdfunding viene svolto su una piattaforma online, ci sono più piattaforme, noi ci siamo documentati e abbiamo scelto quella per noi migliore, è la piattaforma di Ulule francese, un sito francese, e su questa pagina, cliccando, si trova una presentazione video di che cos'è il progetto, come si svolge, eccetera, e è possibile effettuare una donazione libera che va dai 5 euro fino al totale. Noi ci siamo prefissati un budget di 4.000 euro che è servito... Un budget complessivo del... Quindi ogni persona, qualsiasi persona, privato o non privato, può accedere a queste donazioni con vari metodi e viene data, a seconda del taglio della donazione, una piccola ricompensa che può essere un ringraziamento sul sito piuttosto che sul libretto di sala del concerto, del primo concerto, fino a una lettera scritta dagli orchestrali, una copia del DVD, insomma cose varie. E questa piattaforma ha funzionato molto bene, anche perché ci ha aiutato ad acquisire più visibilità e man mano che crescevano le donazioni, aumentavano, e quindi ogni volta che eravamo sempre un gradino più vicini al budget anche i donatori credevano un po' più nel progetto e quindi è stato un concatenarsi di eventi che ha portato non solo a raggiungere il budget definitivo ma soprattutto il 125% delle donazioni, quindi 5.000 euro. Ma questa vittoria non è soltanto una vittoria economica, tra virgolette, perché il senso che noi abbiamo voluto dare a queste donazioni è un messaggio anche etico, ovvero chi donava per questo progetto che comunque coinvolge giovani da tutta Italia è un progetto che non ha una scadenza, cioè per il primo concerto noi abbiamo scelto il crowdfunding come metodo di finanziamento ma questo progetto sin dall'inizio, come effettivamente è stato anche per la seconda data dell'orchestra e come ci auguriamo che sarà in seguito è un progetto che vuole andare avanti, vuole consolidarsi quindi chi donava anche semplicemente 5 euro era consapevole di fare un investimento sui giovani e poi ha potuto in questo modo esprimere anche la propria volontà di riscatto in una società che è molto poco attenta alla cultura e in questo caso anche all'attività musicale. Le donazioni che sono arrivate attraverso questa piattaforma sono state variegate o c'è stato un sbilanciamento verso le piccole? Sono arrivate tante donazioni piccole, poche donazioni sostanziose oppure c'è stato un... Sono arrivate diciamo donazioni molto 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 variegate dall'amico di... dall'ex compagno di scuola, di banco che ti dice ah sono contentissimo ti dà 5 euro, una piccola cosa allo studente alle persone magari più care, ai parenti che donano qualcosa poi gli sconosciuti che sono stati una rivelazione sono a volte persone con cui non hai mai avuto contatti sono state preziose perché hanno veramente deciso di investire anche una somma ingente fino alla donazione più grande, più importante che è stata quella della chiesi farmaceutici che per noi ha proprio, diciamo, è stato anche un segnale che questo progetto deve andare avanti perché comunque è un animamente riconosciuto ancora prima di nascere, ancora prima di partire è stato riconosciuto come un progetto su cui investire quindi a maggior ragione noi siamo stati e siamo tuttora sicuri che bisogna continuare su questa strada Sono nate relazioni con questi sconosciuti? Sono persone che poi sono venute anche a vedere il concerto? Vi hanno in qualche modo stretto la mano? Sono riuscite a interagire con voi? o sono rimasti sconosciuti benefattori? No, no, spesso ci hanno scritto congratulandosi e poi chiaramente noi puntiamo a tenere ad esempio abbiamo tenuto dei posti riservati alla data insomma tendiamo a tenerli aggiornati su come si muove il progetto anzi sono i primi che magari quando pubblichi su Facebook online delle notizie ti scrivono e dicono ah complimenti molti dicono ah siamo orgogliosi di aver fatto parte anche di questo progetto di questa piccola rivoluzione se vogliamo in campo culturale Fantastico e rispetto invece alla composizione all'organico di questa di questa orchestra perché dobbiamo dirlo qua si fa sul serio non è un gioco non è una cosa nata per gioco stiamo parlando di signori musicisti di persone che hanno fatto e che stanno facendo della musica e delle proprie passioni una professione tra l'altro possiamo anche sfrattare un piccolo mito penso l'etichetta che vi è stata appiccicata orchestra dei percari in realtà insomma le cose non stanno proprio così giusto? Sì diciamo che ci può giustificare il termine orchestra dei precari nel senso che oggi un musicista giovane che investe dieci anni e passa della sua vita a studiare esce e tutte le orchestra bene o male o stanno chiudendo oppure magari fanno contratti molto brevi c'hanno sempre un ricambio di organico molto elevato diciamo che adesso siamo tutti precari con la situazione attuale ma non i musicisti nel senso che però ecco mirate a mantenere sì diciamo che il rapporto con loro è costante ecco ad esempio la nostra orchestra chiaramente adesso è la seconda data è nascente però il nostro diciamo sogno in futuro sarebbe quello proprio di avere un ensemble stabile che venga impiegato in progetti proprio continuativi e quindi che l'ensemble cioè a noi piacerebbe in futuro arrivare ad assumerli tutti proprio stabilmente con un contratto a tempo indeterminato se ci saranno le possibilità proprio perché noi crediamo che anche quando facciamo le selezioni siamo molto attenti non solo al discorso chiaramente tecnico che siano persone che sanno fuonare ma anche al discorso etico e morale cioè noi guardiamo che siano persone che abbracciano proprio l'idea e non persone che magari dicono ah sì questa cosa qua la faccio perché posso avere un ritorno cioè il ritorno noi puntiamo che tutti ce l'abbiano proseguendo quel progetto però appunto guardiamo anche molto all'aspetto psicologico dell'orchestra proprio per creare un ensemble che sia armonioso sia dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista personale quindi diciamo dicevamo si fa sul serio i musicisti sono molto preparati è vero che siete solo alla seconda data però potete già vantare delle collaborazioni molto importanti sì diciamo che sia la prima data che si è svolta all'Auditorium del Carmine che è comunque una bellissima sala qui a Parma grimito di gente tra l'altro è stato un concerto molto valido anche perché il primo concerto era improntato molto sulla diciamo esecuzione classica contemporanea dell'orchestra ovvero si è andato ad eseguire un brano appositamente scritto per l'organico quindi una prima mondiale un brano di Luca Tessadrelli Cantus Maraudu che è anche dedicato a me e Guido è molto difficile dal punto di vista tecnico e dal punto di vista musicale siamo stati diretti dal maestro Pierpaolo Maurizzi e da queste collaborazioni è nata un concerto veramente fantastico è stato veramente una sorpresa anche perché la prima volta che l'orchestra era la prima volta che l'orchestra si sibiva su un palco proprio l'esordio ed è stata una rivelazione perché abbiamo potuto constatare che questo progetto che questa orchestra era realmente valida e dalla seconda data invece siamo passati in una seconda parte diciamo che la nostra orchestra è improntata sulla musica contemporanea sull'esecuzione di musica composta oggi o comunque da pochissimi anni da autori contemporanei e quindi puntiamo molto sull'esecuzione di queste opere oppure sulla collaborazione con artisti internazionali ed ecco che la seconda data è nata da questo altro filone e quindi ci siamo ritrovati sullo stesso palco con l'Ulver al Teatro Reggio che comunque è un'istituzione di Parma e siamo stati contentissimi e questa data questa nuova collaborazione ci auguriamo che porti ad altre collaborazioni in questo senso con artisti internazionali e nazionali anche se ci saranno proprio per dare un'opportunità di crescita confrontarsi sempre con realtà contemporanee nuove che è una chiave per aprire per far crescere i nostri ragazzi e noi compresi perché nel primo concerto siamo stati anche musicisti dell'orchestra e appunto è una cosa molto importante il confronto con altre realtà e il essere sempre motivati verso quello che si sta facendo abbiamo parlato quindi di due date di enorme successo ce n'è una terza in programma o non si può ancora anticipare nulla? adesso diciamo che stiamo dato che è tutto nato anzi all'inizio addirittura quando noi dicevamo vogliamo fare questo progetto ma siete dei pazzi perché effettivamente cioè quando uno non siete? sì no infatti quando uno parte non si rende forse bene con noi meno male meno male uno parte un po' è quello che serve con la pazienza e poi dopo dici cavolo però insomma diciamo che appunto queste due date anche grazie cioè ringraziamo Alessandro Albertini che è stato l'organizzatore della data degli ulver che ha creduto in noi fin dall'inizio e senza di lui cioè è una data che non avremmo mai potuto fare per cui diciamo che adesso è nato tutto molto velocemente si è sviluppato per cui adesso stiamo appunto valutando delle nuove produzioni che insomma ci stiamo lavorando però non possiamo ancora teniamo la sorpresa una cosa che mi ha colpito molto quando ho letto articoli e cose su di voi e sul vostro progetto è una fortissima attenzione che i media vi stanno dando media di carattere nazionale non solo media locali o riviste o blog o siti che trattano della vostra materia come ve la spiegate questa cosa? beh da subito appena diciamo abbiamo incominciato col crowdfunding ed era giugno inizio di giugno abbiamo avuto subito due riscontri molto positivi ci hanno contattato testate importanti il Sole 24 Ore piuttosto che la Repubblica e da lì abbiamo capito che questo progetto effettivamente è veramente un progetto che ha qualcosa da raccontare e molte persone se ne stanno rendendo conto e noi abbiamo cercato anche di capire il perché il per come e secondo noi perché oltre ad essere un progetto musicale innovativo quindi dal punto di vista più tecnico più specialistico potremmo dire per i musicisti una cosa nuova è anche un progetto che ha un messaggio sociale un messaggio etico perché si parla di giovani si parla in un certo senso di precariato si è parlato appunto di crowdfunding è un progetto che tocca molti ambiti quindi non è solo la solita orchestra che parla di musica è proprio una rivoluzione è un'innovazione a 360 gradi e secondo noi è per questo che questo progetto sta avendo molto successo speriamo che ne abbia ancora tanto e poi iniziando a suonare realmente l'orchestra ha dimostrato di essere davvero all'altezza davvero un organico formidabile con uno standard qualitativo altissimo e quindi si è aggiunta anche poi la componente qualitativa molto alta che ha dato risalto ulteriormente a queste caratteristiche che sin dal principio si sono contraddistinte sono state vincenti avete avuto molte richieste in seguito a questi articoli a tutta questa attenzione persone che volevano mettersi in contatto persone che volevano mettersi in contatto con voi per offrire collaborazioni o avanzare richieste particolari beh diciamo che magari proprio la richiesta così qualcosa è arrivato però diciamo che poi è anche più facile non so se uno vuole relazionarsi con determinate persone è più facile che magari uno cioè ti diano retta ecco perché chiaramente è un progetto che sanno che è contraddistinto dalla qualità perché poi chiaramente quando uno dice voglio fare l'orchestra giovanile ok sulla carta cioè tutte le orchestre sono eccezionali però poi dipende anche poi nella pratica che cosa cioè se un'orchestra che appunto la propone in un teatro con quasi tutto esaurito e dici ok se però suona male poi dopo viene meno un po' diciamo l'aspetto qualitativo però noi chiaramente siamo su quello siamo abbastanza tranquilli e poi tra l'altro un'altra cosa che diciamo è abbastanza particolare di questo cast è che è gestita totalmente da noi due cioè non c'è un'associazione più grande dietro di noi per cui anche questo noi siamo molto attenti ai vari passi da seguire a livello artistico e qualitativo sì siamo immersi a 360 gradi anche noi in questo contesto e poi appunto anche a livello sociale il messaggio che vogliamo che passi è che uno cioè spesso si ha questa impressione dallo Stato in generale che dare i soldi alla cultura sia equivalente di darle due monetine a quello che suona il violino per strada che non è così nel senso che investendo nella cultura per cui investendo anche nell'orchestra noi non diamo solo non possiamo dare solo lavoro ai giovani musicisti ma diamo lavoro ai fonici infatti per il 12 abbiamo scelto appunto dei fonici giovani che hanno collaborato all'aspetto appunto tecnico audio abbiamo dato lavoro a dei videomaker a fotografi per cui diciamo che è una filiera che si muove insieme al mondo di uno spettacolo che basta che chiaramente dà lavoro a molte più persone di quelle che si vedono sul palco e poi riuscendo a sbloccare questo oblio culturale in cui l'Italia è caduta tristemente in questi ultimi anni cosa vuol dire avere una rinascita vuol dire soprattutto creare un paese che con più cultura produce idee migliori prima di tutto più idee poi anche migliori e non solo in ambito musicale ma in tutti gli ambiti può avere dei riscontri positivi su tutto il mercato nazionale internazionale è un paese che si riprende perché un paese acculturato è un paese all'avanguardia è un paese che può veramente produrre delle novità far del bene all'intero mondo e comunque essere all'avanguardia rispetto agli altri paesi europei se si pensa all'Italia in questo momento quindi l'educazione culturale come l'istruzione non dovrebbe essere il primo ambito in cui si tagliano i fondi anzi andrebbe proprio alimentato perché è l'unico ambito che mette in moto un meccanismo per cui poi anche l'economia torna a girare torna a insomma a muoversi io allora a questo punto vi ringrazio infinitamente per questa bellissima chiacchierata e chiuderei con l'ultima domanda che è la più difficile quella a cui teniamo di più che consiglio vi sentite di dare a un giovane che come voi vuole mettersi in gioco e vuole provare a percorrere la sua strada a crearsi la propria professione anziché rincorrerne una che è una cosa che oggi è sempre più complicata vi sentite di diciamo la nostra esperienza è molto personale però pensiamo che possa essere ad esempio anche per altri giovani che hanno molta voglia di emergere una condizione diciamo imprescindibile è che un po' fogli bisogna essere nel senso che quando si tenta di creare qualcosa dal nulla non ci sono garanzie bisogna essere molto riflessivi bisogna pensare bisogna riflettere non bisogna buttarsi a capofitto senza una direzione però bisogna anche avere del coraggio e solo avendo del coraggio poi si possono ottenere dei risultati perché poi alla fine se nessuno si muove sicuramente la situazione non cambia quindi anche un giovane che tenta di muovere i primi passi e decide di creare qualcosa di nuovo deve farlo è necessario è il motore di tutto non può bloccarsi è vero che in questo momento questo momento storico non aiuta ma non è una giustificazione anzi potrebbe anche essere visto come una come si dice ecco sì potrebbe essere appunto una spinta in più perché in un momento in cui c'è crisi magari la novità che emerge il progetto strano che può essere meraviglioso è anche più visibilità quindi in un certo senso non voglio dire che sia una fortuna però può essere uno scenario da sfruttare in maniera positiva per recuperare ciò che è andato perduto negli ultimi anni quindi io come consiglio mi sento di dare questo ai nostri musicisti che ci hanno seguiti sin dall'inizio quelli che si sono aggiunti secondariamente noi vogliamo rivolgere il nostro più caro e più sincero grazie perché loro sono stati i primi e possono dimostrarlo anche a tutti gli altri giovani che magari hanno voglia di mettersi in gioco a credere a credere in un progetto che in cui sono stati inseriti e non sapevano niente nel senso a volte non ci conoscevano neanche molti ragazzi quindi noi abbiamo avanzato delle proposte e loro potevano anche dire ma voi chi siete noi non vi conosciamo non ci date garanzie niente e invece questi ragazzi ci hanno creduto e siamo anche grazie anche a tante selezioni grazie anche a tante persone che si sono tirate indietro perché non se la sono sentita siamo arrivati a raggiungere un organico veramente solido cioè questi ragazzi che non si sono mai incontrati nel primo concerto grazie anche certamente alla sapienza del maestro Maurizzi che ha saputo gestire la situazione in maniera ottimale dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista psicologico questi ragazzi sono diventati subito un tutt'uno e hanno proprio perché hanno creduto nel progetto e perché sono stati motivati ma è venuta da loro la prima motivazione e quindi io consiglierei a chi vuole a chi ci tiene di affrontare queste situazioni anche se sembrano difficili perché poi un progetto in cui si è motivati in cui si crede davvero andrà bene però bisogna crederci fino in fondo perché le difficoltà ci sono anche per noi però bisogna superarle e prima o poi qualcosa succede sì anche perché ad esempio spesso si dice c'è crisi c'è crisi ad esempio quando appunto abbiamo sentito i vari negozi a meno sono rimasto così quando un negozio fa ma no adesso è una situazione di crisi noi non facciamo niente non possiamo andare ma proprio perché è una situazione di crisi il sistema come ha funzionato fino adesso se adesso c'è la crisi vuol dire che era sbagliato quindi se non si fa nulla di fatto la crisi non può che peggiorare di certo non può migliorare continuando a fare come si faceva prima per cui di fatto se uno ha un'idea conviene provarla perché tanto peggio ci siamo già se aspettiamo non accade nulla il baratro per cui conviene attivarsi molto semplicemente Guido Miriam complimenti in bocca al lupo però mi raccomando quando ci sarà una terza data vogliamo essere prima di sapere sì sì assolutamente grazie 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 a tutti